bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite fortnite che è stato invaso dallo slarp legend pack lo abbiamo visto proprio nella giornata di ieri oggi parleremo di alcuni easter eggs molto interessanti che forse non tutti hanno visto ma ci sono informazioni anche per quanto riguarda la modifica dei file sorgenti di gioco volevo approfittarne però prima per ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno vogliono supportarmi nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 e insieme a quello che avevo già detto oggi vedremo anche alcuni leaks interessante è un tifi un palazzo particolarmente arrabbiato per alcune cose che stanno succedendo sul gioco ma prima la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi davvero super super scontata ma a te come ti sembra questo slarp legend park slurp pack che cazzo aperci solo non ce la faccio e mi fa cagare cioè non non lo ce l'ho è l'ho preso per il discorso porto non mi piace non mi piace non capisco perché spendere 2000 v bucks perlomeno erano 2000 v bucks non erano 24 euro e spicci come al solito è per me no non mi piace assolutamente dimmi quello che ne pensi invece te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere anzi prima di far vedere questa immagine voglio farvi vedere rivedere il trailer dello slurp legend park davvero molto molto divertente lo abbiamo visto tutti ieri quando abbiamo fatto l'accesso a fortnite ma vi voglio rimandare a questa immagine praticamente l'immagine finale del mini trailer notate qualcosa di particolare dai che l'avete visto anche voi ragazzi se guardate in alto a sinistra ve lo faccio vedere un po più ingrandito dalla c'è sempre lui che maneggia manipola fa le cose il nostro agente del caos lo abbiamo già visto lo abbiamo già incontrato nella precedente nel precedente capitolo dove ha insomma magheggiato la tempesta poi ci sono i cosi slurp che diventano rossi lo abbiamo visto tutte le cose relative alla skin segreta insomma l'agente del caos nonostante lo abbiamo incontrato per la prima volta nel capitolo di fortnite ripercorre e continua anche in questo capitolo 2 sempre un po in side quindi un po spostato però una curiosità il fatto che ci sia potrebbe essere un easter egg o potrebbe di nuovo tornare protagonista e andiamo avanti invece con il prossimo argomento di oggi questo è molto interessante perché invece parliamo di aggiornamenti su quello che riguarda i file di gioco sono state aggiunte le api non quelle api le api sono praticamente dei codici che vengono usati nei file di gioco per gli aggiornamenti diciamoli in maniera molto profana poi sarebbero cose leggermente diverse ma quello che ci interessa è che sono relative alla patch 12.21 il che è un bene e un male allo stesso tempo è un bene perché vuol dire che arriverà qualcosa in aggiornamento è sempre più forte si fa ovviamente il discorso della skin di scott travis abbiamo già visto qualche immagine ci sono i file staremo a vedere la cosa un po brutta è che quando una patch non è una 12.30 ad esempio ma è una 12.21 probabilmente non ci sarà un grosso downtime probabilmente non potrebbe anche non esserci il downtime si pensa più che sia un aggiornamento e una risoluzione di alcuni bug e quindi non aspettiamoci niente per settimana prossima incrociamo le dita magari comunque qualcosa arriverà tra l'altro parlando di aggiornamenti arriva proprio un tweet importante nella pagina ufficiale di fortnite status che annuncia appunto la sistemazione di un paio di bug che ci sono nel team rumble dove dicono tradotto dall'inglese italiano i giocatori rimangono sull'isola di spawn invece che spawnare normalmente nei match appunto quelli in risa squadra a me personalmente non è mai capitato mi auguro però che sfixino anche il problema che c'è nella nuova modalità dove spesso e volentieri si viene responati in mezzo alla tempesta e a volte non riesci proprio a raggiungerla safe quindi alcune migliorie sicuramente da fixare magari si accorgeranno anche di quei problemi che hanno non si sa perché le skin tutto un po sbarlazzine no hai capito tipo i codini della skin di harley queen che va per i fatti suoi il coltello sulla coscia della skin della modalità borderlands che gira insomma speriamo e incrociamo le dita e andiamo avanti ragazzi perché invece ieri sono uscite il quinta coppia di sfide di deadpool niente di difficile vi avevo già fatto il video appunto sul canale dovevate andare nella sezione agenti miascolo e raccogliere l'unicorno di pezza dopodiché visitare i 5 ponti colorati sulla mappa quindi niente di difficile vi ricordo che come ricompensa otterremo una schermata di caricamento però è un traguardo molto molto importante perché in realtà dentro al alla tana di deadpool è aiaiaia è apparso quest'altro piccolo easter egg che non è altro insomma che l'uscita ufficiale della skin dovrebbe essere proprio il regalo che happy games ci ha voluto fare e una skin in regalo e tanta tanta roba è io sono ancora convinto che oltre al discorso collaborazione con deadpool abbiamo già visto che arrivano anche le doppie pistole molto probabilmente si parla che deadpool farà parte di un ltm dove lui stesso sarà un eroe mitico ci sono anche il misty bop quindi questa nuova arma sempre associata secondo me lo hanno anche fatto per scusarsi tra virgolette delle grandi caspellate che hanno fatto nel capitolo 1 dove 185 giorni di season io non mi dimenticherò mai quindi avere una skin in regalo è tanta tanta roba volevo però andare ancora un attimo avanti perché ci sono delle modifiche anche scoperte per quanto riguarda proprio la skin bandoliera come vedete è stata aggiornata la skin stessa nei file di gioco mi sembra anche se purtroppo non si riescono a vedere correttamente i colori perché quando andiamo a trovare roba nei file sorgenti i colori non sono mai quelli che poi vediamo in game mi sembra che abbia delle modifiche appunto sul corpo e non riesco a ricordare se quei guanti rossi li avevo non li aveva probabilmente poi ci sarà anche qualche modifica appunto per la colorazione insomma un'altra cosa carina che staremo a vedere però prima di salutarvi volevo un attimo condividere con voi lo sfogo del signor tutti i più vi faccio vedere uno spezzone valla valla so bad oh dude è solo tipo ogni volta bro si 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 Bro, like the worst thing that Fortnite has ever done. Ever, bro. I'm talking about literally planes and whatever the f*** there could be. The worst thing they've ever done in the game is removing traps. I don't give a f***. They nerfed him down to 100 damage. It was the worst decision. Insomma, a parte le imprecazioni di Tfew, lui dice la cosa peggiore che Epic Games possa aver fatto, cioè sempre da lamentazione, ma è contento Tfew, la cosa peggiore che possa aver fatto è la rimozione delle trappole. Perché il Tfew dice una roba del genere? Perché continuano prepotentemente a entrargli nei box a colpi di barrettate. Lo avevamo già visto in qualche video fa, lui o è sfigato o è sfigato. Quindi io non sono d'accordo. Sinceramente gioco benissimo senza le trappole perché appunto non hai la paura di qualcuno che appena tu gli enti, vrà, mette giù 17 trappole. Insomma, ce ne ha sempre una da dire. Noi lo accettiamo così com'è. Magari ditemi la vostra se avete voglia qua sotto nei commenti. Ci sta il fatto che abbiano tolto le trappole oppure no? Insomma ragazzi, anche per oggi ho tutte le news, ve le ho dette. Voglio ringraziarvi per avere guardato questo video. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi ai miei canali. Io sono in live sulla piattaforma Viola e oggi qualifiche della Cash Cap alle 15. Ciao!